Salve a tutti, sono Angelica, italiana di Roma, ho 24 anni e mi sono laureata all'Università di Roma, la Sapienza, lingue e culture orientali e la mia specializzazione è la lingua cinese. Ho deciso di fare questo internship in Cina perché era il mio sogno avere l'opportunità di lavorare in un'azienda, per di più in un'azienda cinese, quindi è un cunobbio perfetto. Il mio tipico giorno lavorativo si basa sulla traduzione del sito web della mia compagnia in italiano, ogni settimana realizziamo un video per il nostro canale di Youtube e da poco ho anche iniziato a scrivere un blog sempre riguardo la mia compagnia. La mia compagnia produce impianti capillari per coloro che soffrono di dilatamento di capelli e di alopecia totale, sia per uomini e donne, è un commercio praticamente che dona felicità alle persone che l'hanno persa durante il tempo. Ciò che mi sta colpendo maggiormente è che sto imparando molto in questa compagnia, ho scoperto una nuova città cinese in cui non ero mai stata e sto conoscendo molte persone interessanti. Tutti i miei colleghi sono molto carini e gentili, in caso di difficoltà o problemi sono sempre pronti ad aiutarmi. Ancora niente sfide da superare, perché questa non è la mia prima volta che vengo in Cina, quindi per adesso tutto sta andando per il meglio. Per coloro che intendono venire qua, io suggerisco di farlo, perché è un'esperienza fantastica e speciale, avrete veramente l'opportunità di vivere una bella esperienza, quindi perché no? Grazie.